Mauri, guarda dove stai, nel paradiso del ciclista, qui tutto l'angolo del ciclismo per andare più forte da prendere un po' di sali minerali, qualche cosa, per adesso per il caldo qui c'è scritto fast drink, questa è tutta roba proprio da ciclismo da prendere, questi qui mi trovo bene dimmi lo scopo tu, che ci devi fare, a che ti serve? io mi trovo bene, questi qui mi trovo bene vediamo eh power drink, t'hanno pagato Mauri, dire la verità no, 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 me li trovo molto bene PL2-3, dai, 2-3 che adesso quali 2-3? 2-3 Mauri a te pido una scatola interna, no, 2-3 io ne ho 60 all'ora, mica 50 se pido 2-3 ho 50, pido tutto interna, una scatola pido tutti quei pidi? ma c'è una scatola sana? eccola dietro tu pido pure quello, pido tutto chi si sparsa la voce Mauri, la prossima volta non la trovi più pido tutto, pido tutto questo qui quale? fast drink adesso provo un prodotto Vitamistore, questo è buono ma guarda, prendo questo e questo, via si, vedi che hanno fatto, carino, per quelli che magari iniziano adesso ad allenarsi, no? si sarebbero queste cose qui, dentro già si trova uno di questo magari uno che non sa quale comprare qui siamo al Vitamistore ce n'è di tutto di più però questo ti piace perché dice? si, perché uno che è meno esperto compra questo kit allora questo kit che cosa ha? o uno che vuole provare? anche uno che vuole provare? anche uno che vuole provare tutto l'insieme certo ha questo l'integratore che si prende prima prima dell'allenamento quanto prima? circa mezz'ora prima ah, mezz'ora prima poi abbiamo la classica barretta e il carbo gel che sarebbe questo il carbo gel allora il carbo gel dentro c'è la consistenza di gelatina non è acquoso, un po' più gelatinoso, no? vabbè dipende, ci sono vari tipi, questo è un po' più liquido questo si prende magari una cosa rapida un carboidrato rapido tipo prima di una salita allora quindi quindi se tu sai che ti inizia una salita bevi questo perché questo qua va subito in circolo bene poi c'è la barretta che è sempre un carboidrato però un po' più lento magari lo prendi a metà allenamento una venura? si, poi abbiamo la bustina di minerali questo si può mettere anche dentro la borraccia durante l'allenamento si beve questo è per il recupero, vedi? per il recupero è una base c'è anche ammino acido sali minerali tutto ciò che serve per recuperare quindi questo è un kit per una giornata per una giornata in maniera tale che uno già sa che questo se lo fa tutto quanto un ciclista di un giorno ma questo è un bel kit un bel kit un bel kit da gran fondo ah questo è un kit per una gran fondo si oh c'è sta pure la bandiera completamente italiano ragazzi che sapete che ai mille centini gli piace bene allora abbiamo convinto a Maurizio a fare anche questa recensione qua poi dopo voi nei commenti se ci chiedete noi eseguiamo questa tu ci vorresti sostituire la pizza? si perché fa colazione la pizza però non mi fa niente mi sento questo questo mi ha detto che mi riempie meglio e che c'ha questo qua a differenza della pizza? che c'ha questo qui? carboidrati a basso impatto glicemico carboidrati a basso impatto glicemico e quindi ti sento il meno gonfio dovrebbe essere no? o sbaglio? hanno più energia e più velocemente no no più energia più energia a lunga durata va bene allora Maurizio provale e poi la gente nei commenti ti può domandare come è andata va bene eccole qua vedete ci sono tre gusti ora proviamo e Maurizio se glielo scrivete nei commenti ve lo dice eccoci